Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi del solvente per unghie della Phoebe Niles. È un delicato remover senza acetone e perfumo di frutti di bosco che permette di rimuovere con facilità lo smalto senza aggredire le unghie e le cuticole. La sua speciale formula è arricchita con olio di ribes nero, dalle proprietà antinfiammatorie e rinforzanti, con olio di jojoba che idrata e nutre la pelle e con vitamina A ed E. Sono rimasta davvero contentissima di questo prodotto, l'ho voluto provare subito perché ero molto curiosa. Ve l'avevo fatto vedere i prodotti che mi avevano inviato la PN Italy appunto già nel video precedente. Se volete darle un'occhiata ve lo lascio qui sotto in descrizione insieme appunto al sito PN Italy se volete sbirciare un po' dei loro prodotti. Vi dico già che costa davvero pochissimo perché ha una qualità davvero altissima quindi vi consiglio di acquistarlo se appunto siete interessati ad un solvente con una qualità davvero eccellente che non rovini le vostre unghie. Come vi farò vedere nel video l'ho testato su uno smalto nero che comunque è uno smalto scuro e più difficile da togliere rispetto a uno smalto appunto più chiaro. Senza contare oltretutto che comunque è un prodotto totalmente Made in Italy quindi questo dà assolutamente 10 punti in più rispetto ad altri prodotti. Ed ora vi lascio il video di dimostrazione. Allora prendo il dischetto struccante con appunto il solvente Phoebe Niles vado a metterne un pochino nel dischetto e senza andare a strofinare eccessivamente vado appunto a fare solo dei movimenti delicati sull'unghia e circolari. Come potete vedere rimuove facilmente lo smalto anche appunto lo smalto prosegue sulle altre dita senza appunto strofinare eccessivamente e questo sarà il risultato finale con un gesto delicatissimo siamo andate a rimuovere anche ogni piccola traccia di smalto nero il che il più delle volte è anche molto difficile andare a lavare. Bene ragazzi come avete potuto vedere io non ho dovuto lottare per andare a rimuovere lo smalto ma comunque si è tolto facilmente con dei semplici e delicatissimi movimenti circolatori quindi ripeto ve lo consiglio davvero alla grande andate a guardare sui prodotti Phoebe Niles questi prodotti davvero meravigliosi per quanto riguarda il solvente poi andrò a recensire anche gli altri prodotti che non ho ancora avuto modo di testare questo è il primo vi lascio sotto in descrizione tutto ciò che riguarda la PN Italy e la Phoebe Niles e tutto ciò che vi riguarda andate a dare una sbirciata perché almeno quello non costa niente ma se volete sapere un mio parere personale è davvero davvero il massimo Bene ragazzi per oggi è tutto spero tanto che questo video vi sia stato utile mi raccomando fatemi sapere sotto nei commenti se avete acquistato questi prodotti almeno se avete acquistato questo prodotto fatemelo sapere sotto nei commenti perché sono davvero curiosa io vi mando un bacio e vi aspetto nei prossimi video ragazzi ciao 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 ciao